Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6 iniziamo subito la nostra rassegna stampa dalle prime pagine regionali andiamo dunque sul nostro touchscreen per vedere insieme le prime pagine le quattro edizioni provinciali del centro e poi il messaggero e la città Allora, l'edizione di Pescara apre con la grande Pescara la grande città, un'idea che piace Pescara, Montesilvano e Spoltore anche la di Consum vuole la fusione ed esorta ad abbattere i costi andiamo a centropagina altra notizia importante danni, neve e roghi arrivano gli aiuti ai comuni e poi nelle cronache manifestazione a Pescara la protesta dei senegalesi vogliamo il mercatino ancora l'ordine dei medici niente quorum costretti a tornare al voto e poi Montesilvano prostituzione clienti stangati di 10.300 euro in Abruzzo Busseppiano d'Orta Edison presente i progetti di bonifica dei siti e poi le malattie rare l'incontro tra regione e progetto Noemi è andata a vuoto la rabbia di papà Sciarretta ancora tornei regionali del calcio giovanile commenti e protagonisti andiamo a vedere all'interno la scoperta una fabbrica dell'oro nell'universo vedete la foto di Eugenio Coccia rettore del GSSI dell'Aquila e poi per il marketing il consorzio dei vini punta sul turismo andiamo adesso nel taglio alto troviamo un richiamo dalle pagine interne delle cronache nazionali qui si parla ovviamente di manovra fiscale da 20,4 miliardi quella varata dal governo Gentiloni sgravi per gli under 35 bonus fiscali ma niente tasse approfondiremo tra pochissimo quando apriremo le prime pagine dei quotidiani nazionali nel taglio basso il buongiorno abruzzo di Giuliano Di Tanna la linea d'ombra dell'ultima partita di KK andiamo avanti con il quotidiano il centro questa è la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto titolo di apertura in 60 mila senza acqua per 24 ore conduttura rotta a Lanciano nove comuni a secco e scuole chiuse in quattro centri andiamo a vedere nelle cronache il liceo ancora chiuso le lezioni all'aperto a Chieti si tratta del liceo artistico chiuso da otto giorni come leggiamo nella didascalia e poi sempre da Chieti certificato allevaso medico indagato e poi raid in centro i residenti fate qualcosa notizia che arriva invece da Vasto proseguiamo con la lettura del centro questa è la prima pagina di Teramo la cronaca in apertura accoltella il compagno e viene arrestata ad Atri l'uomo si ripara con un braccio il fendente gli recide un'arteria fortunatamente non è grave è stato soccorso e medicato e poi nelle cronache processo per le azioni truffa ex tercas sore Pilla confermano le accuse e poi la nomina nuovo vescovo Mandara è favorito per la successione al vescovo seccia trasferito a Lecce quattro arresti per spaccio ai giovanissimi da parte dei carabinieri in operazioni di controllo all'interno degli istituti scolastici della zona nord del Terramano e poi proseguiamo con la prima pagina di L'Aquila Avezzano sul Mona titolo di apertura bollette comune a rischio stangata all'Aquila in arrivo alla sentenza dopo l'esposto degli assegnatari del progetto case scendiamo nel cronache ribaltone in comune Avezzano c'è il ricorso al consiglio di stato vedete la foto del sindaco Gabriele delle Angelis sempre da Avezzano Taccone mito dimenticato morì dieci anni fa sul Mona raccolta dei rifiuti corsa per avere i contenitori questo per quanto riguarda il quotidiano il centro adesso cambiamo testata passiamo al messaggero andiamo a vedere la prima dell'inserto Abruzzo titolo di apertura Pescara città cardioprotetta soccorsi più rapidi e defibrillatori dietro il salvataggio del podista sessantenne di Miglianico perfezionati gli interventi sanitari dopo le tragedie di Morosini Dezzi Palmucci e Rabuffo e poi da Chieti altra notizia di cronaca si sente male rianimato dai carabinieri un malore improvviso poi la caduta a terra il cuore che si ferma un 61enne a rischiato di morire in pieno centro è stato appunto salvato dall'intervento dei carabinieri a centropagina ancora cronaca litigio in casa coltella il convivente Atri l'uomo ferito si è presentato in ospedale Fabiola Caleffi arrestata per tentato omicidio ancora a centropagina Renzi giovedì quattro fermate in Abruzzo il treno del PD tappe a Pineto Pescara nel Vastese e nella Marsica come detto giovedì arriva il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi quattro tappe in Abruzzo una per ogni provincia già inserita nel tour in treno per aprire ufficialmente la campagna elettorale del Partito Democratico andiamo a vedere adesso di spalla incidenti per cinghiali deve pagare la regione confermate in corte d'appello le sentenze emesse dai giudici di pace per il risarcimento dei danni nel taglio basso gli itinerari turistici la bellezza del buon bere vino e territorio raccontare le esperienze paesaggi e storie concentrate in un bicchiere scommette su questo il sistema del vino abruzzese con il connubio tra appunto vino di qualità e territorio d'eccellenza e poi nel taglio alto andiamo a vedere gli altri richiami dalle pagine interne Teramo Crac che estercasse in tribunale la verità dei manager e poi Rigopiano sito nel cratere 2 milioni per ripulirlo dal disastro e per quanto riguarda il calcio di serie B Pescara devi credere alla A le parole dell'ex direttore sportivo Repetto il bilancio delle partite in trasferta è a dir poco entusiasmante c'è il contributo del nucleo che costruirì la scalata di due anni fa queste le parole dell'attuale DS del Teramo andiamo sulla città il quotidiano della provincia di Teramo andiamo a vedere anche qui il titolo di apertura del giornale il quarto lotto va verso l'appalto l'annuncio di D'Alfonso il 23 ottobre riunione decisiva con Anas per completare la superstrada andiamo a centropagina vedete la foto delle macchie di sangue fuori dal portone Atri lite furibonda donna arrestata per tentato omicidio coltellate d'amore è il titolo nel taglio alto andiamo a vedere le altre notizie il processo l'ex DG Pilla testimonia contro Di Matteo vendita delle azioni Tercas non decisero certo le filiali e poi Renzo di Sabatino turismo prima della tassa serve un brand da Giulianova pasticcio con gli alberi di Corso Sauro ancora Camera di Commercio fusione con l'Aquila un anno fa il grande il grande errore e poi scendiamo ancora al Badriatica la Piccioni strappa la ricandidatura sotto la fotonotizia per quanto riguarda le strade Anas si riprende due provinciali successo a metà per il vertice al Ministero dei Trasporti nel taglio basso il caso a Campli vietato bere l'acqua allarme arrivato con 4 giorni di ritardo e poi troviamo la lettera di Marcello Martelli al padre dei laboratori cioè al professor Antonino Zichichi si torna ovviamente a parlare del caso degli esperimenti all'interno dei laboratori sotto il Gran Sasso lasciamo le prime pagine regionali adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale iniziamo dal Corriere della Sera sgravi per chi assume giovani è il titolo con cui viene aperto il giornale conti pubblici bonus fiscale per il verde in città l'architetto Boeri ora i tetti si coprano di giardini misure per 20 miliardi agli statali 85 euro gentiloni no a lacrime e sangue per questa che lo ricordiamo è l'ultima manovra prima del voto per il rinnovo del Parlamento andiamo a centropagina effetti Irlanda al buio roghi e vittime in Portogallo il cielo di Ophelia l'uragano in Europa almeno 45 i morti tra Portogallo Spagna e Irlanda questo è il tragico bilancio degli incendi nel sud d'Europa e per l'uragano Ophelia nelle isole britanniche a Dublino sospesi trasporti pubblici e treni a Londra il cielo era color ruggine sembra l'apocalisse vedete chiaramente da queste fotografie andiamo a vedere anche la riflessione che oggi troviamo sul giornale e la crisi catalana la Spagna scopre le alleanze l'articolo è firmato da Aldo Cazzullo andiamo a vedere altre notizie c'è un accordo con Salvini chi ha più voti dica indichi il Premier Berlusconi intervista con il Presidente di Forza Italia no alle larghe intese andiamo sulla Repubblica adesso anche qui il titolo di apertura riguarda la manovra fiscale stop del governo non si cambia pensione a 67 anni dal 2019 Gentiloni i sindacati si sgravi per chi assume gli under 35 poi ovviamente ci sono tutte le altre misure contenute nella manovra e poi la cronaca internazionale cronista uccisa da un'autobomba indagava sui soldi sporchi di Malta da Fnecaruana Galizia è stata uccisa appunto con un'autobomba scrisse lo leggiamo qui dei rapporti finanziari fra il Premier e il regime a zero andiamo a vedere le altre notizie nel taglio basso un libro i dialoghi del Papa con i giornalisti parola di Francesco sono timido mi nascondo dietro la faccia tosta andiamo sulla stampa anche qui l'apertura è dedicata alla manovra finanziaria giovani e bonus ecco la manovra una strategia a sostegno della ripresa stanziati 10 miliardi per il piano impresa 4.0 resta il super ticket sulla sanità doppio sgravio fino ai 35 anni per le assunzioni detrazioni per giardini e terrazzi assunti 1500 ricercatori poi ancora la politica interna PD e Forza Italia votano insieme in un caso su tre lega i grillini allineati le doppie larghe intese in Parlamento radiografia della legislatura che sta per terminare a centro pagina l'uragano che attacca l'Europa Ophelia si abbatte sull'Irlanda e alimenta gli incendi in Portogallo sono 38 i morti questo è il bilancio secondo la stampa andiamo sul sole 24 ore anche qui chiaramente essendo un quotidiano economico finanziario il titolo di apertura riguarda la manovra finanziaria Cuneo IVA Industria 4.0 manovra da 20,4 miliardi Gentiloni e Padoan snella ma efficace boccia bene il bonus sugli under 35 così il presidente di Confindustria si del Consiglio dei Ministri alla legge di bilancio 2018 stop ad addizionali regionali e locali credito di imposta per il verde sconto sugli investimenti al sud qui vedete anche un riassunto delle misure chiave varate dal governo taglio del cuneo fiscale industria del lavoro pensioni Ape Social e contratti della pubblica amministrazione altra notizia invece che riguarda le borse l'economia e la finanza team sicurezza commissariata il governo esercita il golden power sugli asset strategici del gruppo c'è la rete la divisione Sparkol e la Telsi unità di garanzia sotto il DIS lettera di calenda la Gcom sulla rete questa questo è l'intervento del governo per quanto riguarda la scalata di Bollorè a Telecom e poi i salvataggi si parla di Alitalia per Alitalia sette le offerte Lufthansa voli diretti e network globale Easyjet alcuni asset queste sono le due principali offerte arrivate per Alitalia andiamo a vedere anche il panorama ultimatum di Madrid alla Catalogna rinunciate all'indipendenza entro giovedì o vi commissariamo viene invocato anche un articolo della Costituzione che revoca l'autonomia della provincia catalana e poi le agevolazioni nel focus del taglio alto ricerca premio alle spese per migliorare il prodotto lasciamo il sole passiamo al fatto quotidiano l'apertura è differente rispetto a quanto abbiamo visto in precedenza si parla di Rai Fazio e le due parodi affondano la Rai e Orfeo ignora Milena Gabanelli servizietto pubblico domenica altro crollo di ascolti per Rai 1 e non solo e poi conflitti di interesse affari e politica Telecom Gentiloni legale Golden Power AB per il Renzusconi questa è la lettura del fatto andiamo a centropagina Malta bomba uccide la reporter denunciava le tangenti al governo Daphne Coruana Galizia è stata fatta saltare con la sua auto andiamo sul manifesto il titolo sulla fotonotizia e sulla fotografia di Padoan Gentiloni e il resto mancia e ovviamente si parla della manovra finanziaria a pochi soldi e spesi male per la solita politica dei bonus fiscali alle imprese su 20 miliardi complessivi 16 servono per evitare l'aumento dell'IVA e solo 4 vanno ai provvedimenti di lavoro povertà e contratti niente per la sanità e sulle pensioni i sindacati non trovano ascolto sindacati che sabato erano scesi anche in piazza proprio per chiedere maggiore attenzione soprattutto sulle pensioni andiamo sul messaggero adesso pensioni estatali ecco le novità varata la manovra resta l'aumento a 67 anni ma per le donne l'uscita anticipata sarà agevolata più risorse per il pubblico impiego team il governo impone consiglieri italiani nel cda del gruppo andiamo a vedere altra notizia di cronaca spara al ladro omicidio di latina riapre il caso della legittima difesa un avvocato sotto inchiesta ha perso la testa l'ANM l'associazione nazionale dei magistrati chiede una riflessione Costa dice subito nuove norme andiamo sul quotidiano il tempo sempre per i giornali romani avvocato difensore indagato illegale che ha ucciso un ladro nei guai il professionista di latina che ha protetto la casa del padre dai malviventi le vittime di altri episodi simili sono tutte dalla sua parte anche noi stiamo con lui e poi a centro pagina notizia che non abbiamo visto finora la formula I porta 50 milioni all'obelisco il via parla il presidente di Euro S.p.a di Acetti una grande opportunità per la capitale il gran premio delle automobili elettriche andiamo sul giornale emergenza sicurezza primo non rubare si torna sul caso dell'avvocato che ha ucciso il ladro e rischia la cella ma il cattivo non è lui scrive il giornale due keniani cercano di rapire tre bimbi all'oratorio andiamo su Libero basta immigrazione via gli islamici impariamo dall'Austria il giornale di Vittorio Feltri apre così o ci diamo una mossa a respingere gli assalti di musulmani più estremisti oppure finiremo per esserne schiacciati i sondaggi vedono il centrodestra in crescita anche Berlusconi si esprime si esprima contro l'invasione altrimenti sarà emarginato e poi ci va bene Walter scriverà soltanto libri Veltroni la politica mi annoia andiamo sulla verità restiamo nel campo dei quotidiani di centrodestra l'ultima scossa del governo aboliscono i contanti ecco chi ci guadagna l'obbligo di accettare la carta di credito anche per i caffè penalizza i commercianti gioiscono i produttori delle macchinette post le banche che lucrano sulle commissioni e le casse dello Stato l'uso del denaro elettronico infatti aumenta gli incassi dell'IVA e questo forse non è però un male altra notizia invece che arriva ad oltroceano dal re porno taglia di 10 milioni su Trump per quanto riguarda il caso Weinstein andiamo sul secolo d'Italia il titolo del giornale che fa riferimento a Fratelli d'Italia la sicurezza al centro si parla delle elezioni in Austria e si esorta Berlusconi a prendere anche una posizione netta sulla sicurezza e poi in primo piano manovra elettorale del PD Gentiloni eppure felicissimo via tutti gli irregolari Macron va oltre Marine Le Pen poi odio contro nonna Peppina Ethers ancora in azione sul mattino di Napoli il titolo di apertura riguarda la manovra stop all'iva incentivi per il lavoro manovra da 20 miliardi bonus giovani doppio al sud Gentiloni niente lacrime e sangue il governo conferma le misure per l'industria 4.0 e la decontribuzione per le assunzioni fondi per il contratto degli statali nel taglio alto la sfida Champions chiaramente il giornale napoletano pone attenzione alla gara di questa sera stasera per vincere serve e follia il tecnico azzurro carica il Napoli Guardiola lo elogia il calcio più bello d'Europa dei due allenatori rivali accende la notte di Manchester questa la sfida fra Napoli e Manchester City andiamo sul secolo XIX via alla manovra leggera sgravi per i giovani congelato l'aumento dell'IVA bonus verde per i giardini Gentiloni dice sostegno alla ripresa varato il Golden Power a difesa di Tim su avvenire il titolo di apertura un patto mondiale per le migrazioni così il quotidiano cattolico il Papa alla FAO la fame si vince col no alle guerre Francesco Rammaricato per la rinuncia di alcuni paesi a fermare i cambiamenti climatici riferimento nemmeno troppo velato e al presidente degli Stati Uniti Trump sia al progetto ONU sugli spostamenti di persone lasciamo i quotidiani generalisti nazionali adesso andiamo ad aprire le prime pagine di quelli sportivi partiamo dalla gazzetta dello sport titolone sull'Inter e soprattutto sul momento d'oro di Icardi Icardi che figu l'arma letale dell'Inter fa gol da album dei sogni in Europa nessuno spietato come lui segna ogni 2,56 tiri e spesso contro le big bagni e la sfida primato di sabato Mauro inventa reti il Napoli le costruisce poi Milito e il suo erede mi ricorda Crespo lo scudetto è presto ma non è vietato pensarci nel taglio alto la sfida di Champions Sarri contro Pep loro più forti di tutti ci serve un po' di follia Guardiola fa i complimenti al Napoli al suo tecnico che a Manchester la partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 non ha paura vorrei che gli palleggiassimo in faccia partita alle 20.45 di questa sera e poi l'analisi di Rigosacchi contro il City bisogna alzare il ritmo domani in campo la Juve Piani ci torna in regia con lo Sporting Roma De Rossi rivede Conte Allegri rilancia Quadrado e Alex sulle fasce il capitano giallorosso io folgorato da Antonio Morata ci sarà nel taglio basso la crisi del Milan mercato flop Milan svolta o vai al diavolo da Bonucci a Chessi i nuovi soffrono Montella avanti senza cambiare sul Corriere dello Sport il titolone riguarda la sfida di questa sera Manchester City Napoli in Champions si sfidano Guardiola e Sarri due maestri del calcio spettacolo il bello d'Europa lo spagnolo padre delle Tiki Taka e oggi è l'avversario lascerà una traccia profonda l'allenatore azzurro all'attacco Peppi il più forte al mondo ma ce la giocheremo e poi domani la Juve con lo Sporting di Bala prende la rincorsa la Roma domani il Chelsea di Frascalda i corazzieri d'Inghilterra nel taglio alto Inter da Scudetto una giuria di esperti con i cardi tutto è possibile dopo il trionfo nel derby 20 grandi ex 10 tecnici leggono il futuro nerazzurro il titolo sì è possibile e nel taglio basso lo spareggio mondiale vediamo chi ci tocca oggi il sorteggio dall'urna uscirà una tra Svezia Irlanda del Nord Eire e Grecia e poi il posticipo Benevento ancora a zero fa festa il Verona andiamo su tutto sport rapidamente vi svegliamo tutti i segreti dello Sporting il prossimo avversario della Juventus chiaramente il reportage arriva da Lisbona nel taglio alto la Champions di stasera con la partita fra City e Napoli tutta da godere Sarri vorrei 11 facce da puntini puntini che palleggiano sul Manchester poi di spalle il Torino un autunno di esami per il futuro di Mihailovic nel taglio basso Russia 2018 l'Italia oggi scopre le rivali del playoff Grecia Svezia o una delle due Irlande a Zurigo alle 14 il sorteggio per lo sci Goggia gareggiare contro gli uomini basta battere le donne Fon compresa il basket al via una grande stagione di NBA i Warriors di Curry e Durant puntano a diventare leggende ancora basket Torino Andorra in Euro Cup banchi dice cinici questo per quanto riguarda anche i giornali sportivi prima parte della rassegna che termina qui facciamo un break pubblicitario prima però andiamo a vedere insieme le previsioni del tempo con i nostri esperti di Meteo 6 e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna per approfondire le notizie dalla regione con le pagine interne dei quotidiani abruzzesi vi aspetto eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6 torniamo allora alle notizie dalla nostra regione andiamo a vedere per prima cosa la pagina di primo piano del quotidiano il centro neve e roghi arrivano i fondi la spesa e di 772 milioni ne avremo subito 47 a Roma c'è stato l'incontro fra D'Alfonso e Borrelli cioè tra il presidente della regione e il capo della protezione civile nazionale sbloccati gli aiuti ai comuni e vedete qui anche le stime dei danni ed una infografica che riassume appunto i danni e le problematiche subite dalla nostra regione andiamo a vedere le altre notizie le bombe ecologiche bonifiche di bus e piano d'orta Edison presenta i progetti la società rispetta le scarenze inviate due relazioni al ministero dell'ambiente e la dirigente d'aprile convoca subito il tavolo tecnico per la decisione finale nel taglio basso nel giorno dell'anniversario interrogazioni di Melilla sul giallo della morte di Russo e poi altra notizia che riguarda invece la sanità e le persone affette da disabilità grave bloccati gli aiuti ai bimbi con malattie gravissime e rare ieri incontro a vuoto in regione la rabbia del papà di Noemi Sciarretta andiamo a vedere insieme l'intervista che abbiamo realizzato proprio ieri a termine dell'incontro in regione con Andrea Sciarretti il papà di Noemi stamattina abbiamo avuto un incontro dove sono stati comunque affrontati due aspetti il primo riguardo i fondi caregiver cioè i fondi rivolti alle famiglie affetti da disabilità pediatrica gravissime e in più il reparto di terapia subintensiva pediatrica che è concluso come si può vedere anche sulla pagina facebook Progetto Noemi ma che ad oggi è ancora chiuso noi siamo stati in regione affinché le promesse venissero onorate perché sono comunque degli argomenti già affrontati sia a maggio per quanto riguarda il caregiver che erano state promesse risorse per 280 mila euro e sia la terapia subintensiva nell'incontro purtroppo non era presente il governatore D'Alfonso più Silvio Paolucci e il dottor Muraglia quindi si è convenuti comunque affrontare le problematiche in oggetto entro il 23 ottobre il primo di novembre ci incontreremo affinché siano date delle soluzioni credo che non c'è più nulla da affrontare ma è ormai arrivato il punto di dare concretamente la soluzione cioè la copertura finanziaria del bando e l'apertura del reparto Per il reparto che cosa manca? Perché non viene aperto? Su quanto riguarda il reparto ovviamente la struttura è pronta ora bisogna intervenire evidentemente sull'organico sull'equip che prenderà parte comunque ci stanno lavorando l'Asri di Pescara dovrà intervenire facendo un progetto finalizzato affinché si possa dare la giusta assistenza ai piccoli bambini e ovviamente sono stati spese risorse importanti fondi comunque pubblici nel quale ora sono tutti lì concretamente sia ai macchinari e si può vedere la ristrutturazione perché era inesistente era un'area della pediatria che c'erano degli studi quindi è stato creato ad hoc e ovviamente queste risorse ora devono cominciare a essere operative andiamo avanti la pagina Abruzzo del quotidiano il messaggero il PD lancia la corsa elettorale arriva il treno di Renzi quattro le fermate in Abruzzo tra le ombre della nostra regione giovedì l'arrivo dell'ex premier in agenda fabbriche in crisi e sisma futuro di D'Alfonso e Toto collegi dominano il capitolo delle candidature questa la visita del segretario che sarà Pineto a Pescara e a Vasto e nella Marsica queste le tappe previste in cerca di rimonta dopo lo stop dell'Aquila altra notizia dall'emergenza al futuro chiesta una legge quadro sulle catastrofi naturali ieri c'è stato un convegno organizzato dalla CGL all'università di Teramo andiamo a vedere insieme il servizio il territorio terramano con gli ultimi eventi sismici ha mostrato tutta la sua fragilità 5.280 sfollati su 5.450 totali in Abruzzo 3.081 edifici privati inagibili su 3.850 150 scuole evacuate in provincia su 190 complessive in regione a farne le spese sono soprattutto le aree interne e un dibattito sulla ricostruzione si è aperto all'università di Teramo durante un convegno organizzato dalla CGL provinciale e dalla CGL nazionale il fine è quello di realizzare una piattaforma comune con altre regioni che hanno vissuto la stessa drammatica situazione oggi noi lo che vogliamo porre il problema è che bisogna uscire dalla continua emergenza con una programmazione che il territorio deve mettere in campo come farla questa cosa non la facciamo in maniera automatica non siamo velleitari ma pensiamo che comunque dobbiamo cominciare a porre il problema e per esempio sui diversi temi le zone interne la ricostruzione l'industria di questo territorio il turismo i servizi fare dei specifici tavoli oggi noi avanziamo delle proposte per quanto riguarda almeno il territorio Teramo i comuni ancora non riescono a pagare le aziende per quanto riguarda lo spazzamento neve del mese di gennaio riparte la ricostruzione nelle aree interne la ricostruzione nelle aree interne riparte perché c'è una normativa e ci sono risorse a disposizione per ricostruire ciò che è stato danneggiato quello che non riparte è un nuovo sistema delle aree interne quando diciamo fragilità del territorio significa non solo fragilità delle infrastrutture ma fragilità di un sistema che è stato smantellato nel corso del tempo quei presidi che una volta c'erano nei piccoli paesi nelle aree di montagna oggi non ci sono più e non sono stati sostituiti da altri sistemi e su questo dobbiamo un attimo appunto ragionare meglio e quindi in materia sia di infrastrutture ma anche di presidi pubblici o comunque di salvaguardia pubblica che per esempio in caso di emergenza possono funzionare tranquillamente la pagina Abruzzo sul quotidiano il centro apre con il turismo e il vino il consorzio di tutela vini scommette sull'enoturismo questo per quanto riguarda cantine e territorio presentato percorsi un portale che punta a informare ed attirare visitatori italiani ed esteri la piattaforma online offre itinerari tematici che toccano oltre 400 aziende vinicole in 90 tappe andiamo ad ascoltare proprio su questo argomento l'intervista a Valentino Di Campli che è il presidente del consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo Siamo molto attivi sulla promozione del vino ma sappiamo che il vino si promuove meglio molto meglio se abbinato al territorio il binomio vino-territorio è fondamentale per cui abbiamo voluto creare le condizioni attraverso uno strumento tecnologico un sito internet che consente di localizzare facilmente tutti i siti culturali e le cantine con abbinati anche ristoranti il turismo enogastronomico è fondamentale per la valorizzazione dei nostri prodotti in questo senso il progetto è stato sviluppato un binomio perfetto possiamo dire quello tra il vino abruzzese e le meraviglie della nostra regione assolutamente sì ne abbiamo tantissime abbiamo avuto difficoltà anche nel cercare di selezionare in questi primi dieci percorsi perché c'è un'abbondanza incredibile abbiamo cultura storia architettura paesaggi natura veramente da da mostrare con tanto orgoglio abbinato a quello che è il nostro la nostra mission cioè la valorizzazione delle nostre cantine dei nostri vigneti la cosa è abbastanza facile da fare chiaramente portarlo in giro per il mondo è importante è importante che l'Abruzzo venga sempre più riconosciuto come territorio non è facile perché questo è un primo passo in questa direzione assolutamente da percorrere adesso apremo la pagina di Pescara sul quotidiano il centro la protesta i senegalesi in comune dateci il mercatino sitino organizzato dalla CGL per sollecitare la realizzazione della struttura sono 17 mesi che aspettiamo dicono i senegalesi il sindaco apriamo subito approviamo subito la delibera per aprire appunto il mercatino sarà scontro in aula perché c'è la contrarietà di Forza Italia un'opera indecente fermeremo quel progetto queste le parole del partito di opposizione poi apre la palestra attesa da 12 anni a San Silvestro la cerimonia protagonisti bambini dell'istituto comprensivo 6 andiamo a vedere anche questo servizio diventa realtà il centro polifunzionale di San Silvestro Blasioli un iter iniziato avviato nel 2005 e oggi arrivato finalmente a completamente si intanto una giornata di festa perché riusciamo a dare ad un quartiere importante di Pescara come quello di San Silvestro un luogo di aggregazione centro polifunzionale significherà che la mattina sarà a disposizione della scuola che è qui magistralmente diretta dalla dottoressa Grillantini e poi il pomeriggio invece saranno 450 metri quadri a disposizione della parrocchia delle associazioni del luogo e anche di associazioni che sono fuori da San Silvestro è importante perché è un percorso molto atteso parte nel 2005 con la prima amministrazione di Alfonso i primi 200 mila euro poi ancora sempre nel 2005 altri 300 mila euro e nel 2013 350 mila euro poi come siamo arrivati noi come amministrazione abbiamo terminato quei lavori che erano già stati programmati abbiamo eseguito proprio nei giorni scorsi la rete di collegamento dell'Enel 160 metri di scavo e poi questo bel piazzale che c'è qui fuori e adesso siamo pronti a inaugurare questo centro che si chiamerà sarà intitolato a Nando Filograsso un famoso pedagogista pescarese morto qualche anno fa ma soprattutto un centro diciamo dedicato a una persona che era di San Silvestro viveva qui Nando Filograsso e questo a noi ci fa ancora più piacere è un quartiere quello di San Silvestro speciale un quartiere animato popolato da persone molto attente all'educazione dei loro figli e quindi molto attente alle esigenze della scuola essere qui questa mattina e poter godere di questo spazio che almeno consentirà delle attività motorie in un ambiente consono è importantissimo è importantissimo che possa ospitare la biblioteca di San Silvestro ed è ancora più importante la certezza che a breve partiranno questi lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico che pur se comporteranno dei disagi nell'immediato per lo spostamento degli alunni rappresentano comunque una tappa importantissima per la sicurezza di tutti i nostri utenti la pagina di Pescara del messaggero apre con i problemi legati agli attacchi di cuore quando lo sport è nemico del cuore notizia approfondimento che trae spunto purtroppo dalla cronaca dietro il caso del podista di Miglianico ancora in rianimazione dopo l'arresto cardiaco alla maratona una catena di drammi prevenzione controlli e performance calibrate sulle talle regole d'oro spesso ignorate dai praticanti amatoriali tant'è vero che c'è l'intervento della responsabile dell'ASL che dice l'allenamento non basta decisivi controlli e stili di vita il cardiologo Alfonso De Censo occorre attenzione fibrillazione triali e aritmie minacciose sono sempre in agguato per gli sport beach volley ipodismo e calcio tra le discipline più a rischio alla luce dei precedenti Rossano Roscioli è salvo grazie all'intervento della misericordia ma le sue condizioni restano gravi nel taglio basso restando sempre su questo argomento Morosini dopo la condanna dei medici è cresciuta la diffusione dei defibrillatori ricorderete nel 2012 la tragedia avvenuta allo stadio Adriatico costata la vita al calciatore non è stata ancora fissata la data dell'appello nel processo che è seguito alla tragedia restiamo sul messaggero andiamo a vedere le altre notizie sulle pagine di Pescara i guai giudiziari del nuovo segretario il presidente Di Marco dà il caloroso benvenuto su Facebook al dirigente della provincia appena rinviato a giudizio all'Aquila Carlo Pirozzolo è sotto accusa per un bando sull'OMPI il suo legale dice un gran lavoratore vicenda per lui dolorosa andiamo ancora avanti dall'area metropolitana tronchi macerie promesse rigopiano nove mesi dopo con un altro inverno alle porte ancora al palo la bonifica del luogo della tragedia un nuovo hotel un caseificio accendi di ripresa in attesa del giro di taglia pronta a partire la raccolta del legname ma la comunità chiede un vero piano per il rilancio della zona di Rigopiano e della zona vestina andiamo sulle pagine del centro di Pescara l'omicidio di Montesilvano Fantauzzi voglio dire la verità sul delitto oggi il pubblico ministero andrà nel carcere fuori regione per interrogare su sua richiesta il killer di Antonio Bevilacqua la versione del killer io e Mancinelli volevamo dare una lezione ad Antonio e al suo amico quella di Mancinelli non conoscevo Antonio non ho discusso con lui e non centro niente col delitto andiamo avanti con la nuova Pescara risparmieremo di consume per la fusione di espoltore Montesilvano e Pescara procedure più snelle abbattimento dei costi che in fin dei conti pagano i cittadini con le proprie tasse da domani il premio Paolo Borsellino a lezione di legalità con scrittori e giornalisti dieci giorni di incontri dibattiti e presentazioni di libri per la ventiduesima edizione della manifestazione dedicata al giudice ucciso dalla mafia coinvolto l'istituto alberghiero e poi le blitz notturno pesca abusiva scattano sequestre multe la guardia costiera controlla due diportisti e scova 36 kg di prodotti pregiati poi donati in beneficenza ancora camici bianchi alle urne medici annullato il voto non si è raggiunto il quorum andiamo nell'area metropolitana Francavilla lavori alla torre della sirena per ripristinare l'auditorium l'importo previsto per il rifacimento degli impianti è di 25.600 euro il comune conta di completare l'opera e inaugurarla entro il primo di dicembre poi ci sarà spazio per pensare alla nuova piazza sirena la nuova via Roma si presenta alla città siamo a San Giovanni Tiatino domani l'inaugurazione dopo i lavori di riqualificazione e anti allagamento nella pagina di Montesilvano blitz dopo le proteste dei residenti prostitute clienti stangati multe per 10.300 euro a settembre impennata di sanzioni della polizia municipale tra Rivera e Pineta Cozzi dice vogliamo scoraggiare lo sfruttamento anche con progetti mirati nel taglio basso il comune aggiorna l'elenco per gli appalti a spoltore iscrizione al nuovo registro per l'affidamento dei lavori da 40.000 a 1.000.000 di euro città Sant'Angelo società rifiuti scontro sull'amministratore unico di questa società polemica sull'affidamento alla torre l'opposizione getta ombre sulla linda SPA l'assessore di Giacomo dice tutto trasparente la discussione approda in consiglio comunale la pagina di penne popoli dell'alta Val Pescara furti nei bar ladri inseguiti fino a Disernia la banda è stata intercettata dai carabinieri a Farindola ed è stata costetta a cambiare tre auto revultiva recuperata il vertice a Roma fra la protezione civile e il presidente D'Alfonso protezione civile e frana civitella si ai finanziamenti e questa la buona notizia nel taglio basso riapre la mensa del cupa real convitto all'anno terminati i complessi lavori di adeguamento sismico dell'antico edificio oggi saranno serviti i primi pasti andiamo a vedere la pagina di Chieti sempre sul quotidiano il centro inchiesta in corsia certificato medico all'evaso indagato per favoreggiamento il chirurgo verna rischia di finire a processo per la visita a un paziente ai domiciliari l'accusa esame falso per coprire l'allontanamento da casa la difesa dice è un equivoco incredibile e poi nuova condanna per pellegrini marioana scopo terapeutico pena di un anno per evasione all'artista che si cura con la cannabis andiamo adesso sulla pagina di Chieti del messaggero eccola qui artistico lezione al convitto l'appello dateci una sede i ragazzi preparano uno striscione per Renzi buona scuola chiacchiere siamo senza la vicepreside a Levi risposte rapide il liceo è una peculiarità il no al trasferimento allo scalo l'edificio storico ancora chiuso per le verifiche dopo il crollo di un intonaco deciderà Pupillo che è il presidente della provincia di Chieti l'incidente si ribalta con l'auto un giovane gravissimo schianto a Villa Magna 22 anni in rianimazione e poi il cuore si ferma salvato in pieno centro dai carabinieri rischia di morire alla fermata dell'autobus decisivo il massaggio cardiaco praticato da un militare notizia che arriva sempre da Chieti andiamo invece nella provincia niente acqua chiudono le scuole l'acquedotto con la brodo colpisce ancora fino alle 8 di domani sospesa l'erogazione in nove comuni l'annuncio della Sasi il provvedimento si è reso necessario per consentire i lavori urgenti di riparazione della condotta principale andiamo sul centro andiamo ad aprire la pagina della provincia teatina Honeywell altro tavolo a Roma il ministro incontra i sindacati oggi il vertice da calenda un mese dall'avvio degli scioperi nella fabbrica dell'automotive le forze sociali vogliono informazioni su aspetti organizzativi produttivi e occupazionali della azienda altra notizia zuffa tra cani multati i proprietari momenti di terrore sul corso a Lanciano feriti anche i due padroni finiti in ospedale apriamo adesso la pagina dell'Aquila partiamo da Avezzano vietato uscire da scuola senza i genitori obbligo di farsi trovare all'esterno un ritardo massimo di 10 minuti e si rischia la denuncia per abbandono di minore la sentenza della corte di Cassazione che ha messo in subbuglio i presidi che riguarda proprio questo argomento ancora da Avezzano sul voto il ricorso al Consiglio di Stato nuovi sviluppi dopo il ribaltone del Tare che ha modificato la composizione dell'assise comunale mettendo in minoranza il sindaco De Angelis nel taglio basso Taccone eroe del ciclismo dimenticato da Avezzano dieci anni fa la scomparsa del campione andiamo adesso sulla pagina dell'Aquila del Messaggero Centroanziani l'ex direttrice deve restituire 6.000 euro questa l'apertura di pagina si tratta di emolumenti maturati nell'arco di un anno tra il 2014 e il 2015 all'origine dell'atto la possibilità di un danno erariale contro l'istituzione il segretario del comune ha revocato un provvedimento a favore del principe andiamo avanti santuario di roio scatta la petizione per la riapertura a parte la mobilitazione per l'edificio simbolo della frazione lavori finiti mancano i restauri dell'apparato decorativo andiamo ancora avanti sulla pagina di Avezzano sul Mona marsica abbandonata arrivano i forconi un avvocato marsicano e un pensionato hanno varato il partito nazionale 9 dicembre per la sovranità rifondazione attacca presentemente la regione sulla vicenda della sanità la solita logica di sopprimere i servizi essenziali continuiamo sul quotidiano il centro andiamo ad aprire adesso la pagina di Teramo processo ex tercas truffa delle azioni sore e pilla confermano l'accusa la testimonianza del commissario di banca Italia e dell'ex direttore generale di tercas poi il nuovo vescovo di Teramo Atri è favorito Mandara attuale capo della diocesi Sabina per la successione a Monsignor Michele Seccia nel taglio basso da Atri ferisce il compagno con il coltello e viene arrestata tentato omicidio la donna colpisce l'uomo ad un braccio durante l'ennesima lite in casa prima di passare allo sport andiamo a vedere anche la pagina di Teramo sul messaggero anche qui l'apertura è dedicata al processo ex tercas processo per il crack la verità di pille e sora in aula il commissario sospesi subito la negoziazione perché il bilancio si era chiuso in perdita l'imprenditore Nicola Di Nicola investì 600 mila euro ma conosco il rischio nel taglio vandali preso di mira il campo di calcio del quartiere di Colle Atterrato altre notizie provveditorato in vendita per finanziare le scuole poi brucia il furgone pieno di capi di abbigliamento a Sant'Egirio alla Vibrata nella pagina della provincia a coltello il compagno viene arrestata abbiamo già visto in precedenza notizia che arriva da Atri Fabiola Caleffa a 49 anni ha tentato di uccidere l'uomo muratore di Silvi durante una lite nel loro appartamento l'allarme è scattato dopo che la vittima si è recata in ospedale a curare le ferite a quel punto è partito il blitz dei carabinieri andiamo sulla città per vedere le altre notizie dal Terramano la Terramo Mare quarto lotto verso l'appalto Masterplan il governatore D'Alfonso annuncia la riunione decisiva con l'ANAS per il 23 di ottobre nel corso del convegno che abbiamo visto in precedenza organizzato dalla CGL Terramana e poi riclassificazione delle strade successo a metà per la provincia di Terramo lo Stato si riprende la manutenzione della SP 553 notaresco Silvi della SP 259 della Val Vibrata che però è già stata sistemata il processo Tercas azioni Tercas non furono le filiali a decidere queste le testimonianze in aula e poi fusione camerale un anno fa il grande errore con Fartigianato fu l'unica associazione a votare contro l'assegnazione della sede legale all'Aquila andiamo avanti imminente il progetto di recupero del teatro sempre a Terramo il sindaco accoglie la nuova soprintendente ai beni culturali se discusso anche del castello e del corso vecchio oggi la cerimonia dedicata ad Anna Ferrante in consiglio l'intitolazione dell'asilo Pinocchio alla pedagoga scomparsa poi corte dei conti e question time andiamo in provincia turismo le parole del presidente di Sabatino prima della tassa serve un brand di Sabatino apre l'imposta di soggiorno ma chiede più coordinamento e promozione dei comuni e tra i comuni andiamo avanti la politica Tonia Piccioni verso la ricandidatura all'investitura del sindaco uscente di Alba Adriatica durante la convention di Forza Italia continuiamo con la città primi intoppi per il cantiere del corso a Giulianova architetti agronomi criticano il mancato rispetto delle regole sugli alberi la notizia in precedenza già vista della litia da Atri finita a coltellate e poi la pagina della cultura senza ricordi l'uomo non vive Nadia Tarantini a Teramo con il romanzo quando nascesti tu stella lucente andiamo adesso ad aprire lo sport parliamo ovviamente della serie B e del Pescara i biancazzurri qualità e quantità palazzi strega Zemane studia Verratti scrive il quotidiano il centro il 21enne l'equilibratore del Pescara che ha come idolo la stella del PSG all'orizzonte 4 gare in 15 giorni per il decollo definitivo della squadra di Zeman il boemo un maestro sabato vincerà il Delfino Ferraresi e il doppio ex della sfida con Lavellino biancazzurri più forti ma occhio alle ripartenze intanto nel posticipo Virtusentella Empoli è finita 2 a 3 per la squadra allenata da Vincenzo Vivarini prima di passare alla Serie C andiamo a vedere anche l'apertura della Bruzzo Sport sul messaggero Pescara devi credere alla A le parole di Repetto i biancazzurri sono un mix tra giocatori esperti e giovani di qualità solo Empoli e Frosinone sono superiori i discorsi su una squadra poco zemaniana sono sciocchezze fare 7 punti in 3 trasferte senza subire gol è il massimo queste le parole dell'attuale direttore sportivo del Teramo proprio del Teramo andiamo a parlare adesso di spalla adesso il calendario dà una mano al Teramo che fino ad ora ha avuto impegni difficili da affrontare andiamo a vedere il titolo sul Teramo anche sul quotidiano il centro il diavolo sorride Asta aspetta Bombertulli il Teramo mette in piedi la cooperativa del gol sono 9 le reti segnate da 7 giocatori diversi Foggia e Ilari gli unici a quota 2 il terzino Scipioni lascia i biancorossi e si trasferisce al Nardò in Serie B dopo l'espload contro il Pado all'orizzonte due trasferte consecutive per Speranza e Soci domenica dedicata sfida col Sant'Arcangelo andiamo a vedere anche il titolo della città sul Teramo Teramo la maturità è davvero vicina la squadra di Asta in 8 turni di campionato ha imparato come si gestisce il risultato come si rimane in partita e come si rimonta sempre con il bel gioco torniamo sul quotidiano il centro andiamo a vedere i dilettanti l'eccellenza le grandi in vetta ma che equilibrio Bartolini a praude d'Alessandro Cantagalli il miglior chietti della stagione per quanto riguarda il riassunto dell'eccellenza in Serie D le abruzzesi del Girone F Gianpaolo Grazia Cerone ho risollevato l'Avezzano il tecnico spiega il cambio del modulo alla base del rilancio dei Marsicani Leonetti e Lavastese il mio obiettivo è chiudere la stagione in doppia cifra andiamo a vedere anche la pagina dedicata alla Serie D sul messaggero eccola qui si parte con l'Aquila tutto fermo a livello societario ma il tempo stringe inviata ieri la convocazione per l'assemblea dei soci che però potrebbe andare deserta spingendo la società verso il fallimento tecnico e squadra abbandonati a se stessi mentre la città assiste passiva all'agonia del club Lavastese Colavitto la squadra ora a Pesaro senza paura e poi Avezzano il tempo sta dando ragione alle scelte di Giampaolo il tecnico aveva chiesto pazienza e i risultati cominciano ad arrivare nel taglio basso il Pineto agli arbitri chiediamo rispetto e poi il Francavilla il nuovo modulo funziona per la squadra di Iervese continuiamo e completiamo la lettura delle pagine dello sport del messaggero andiamo a centro pagina Pescara ospiterà un girone europeo per il calcio a 5 i Biancazzurri ospiteranno uno dei gruppi di UEFA Futsal Cup la cui composizione verrà sorteggiata giovedì a Nyon dopo il passaggio del primo turno in Bielorussia e Biancazzurri vedono accolta la loro richiesta andiamo nel taglio alto l'eccellenza Ielli chiedi a tutto per restare in vetta ancora eccellenza Piccioni Giulianova devi ancora crescere a Miglianico vittoria pesante ma tendiamo a complicarci la vita per la serie D il San Nicolò campanile San Nicolò una prova di maturità e poi le altre notizie la palla a mano impresa della Lions Teramo che supera in casa il Carpi il basket di serie B Amatori lo sfogo di Raiola mi vergogno di questa gara e poi il volley buon esordio per l'Abruzzesi ok Antoniana Altino e Chieti andiamo ancora sul quotidiano il centro per le altre notizie troviamo il calcio giovanile con tutti gli approfondimenti per quanto riguarda i settori giovanili delle squadre regionali poi il basket di A2 Cimorosi Roseto cerca rinforzi sul mercato il presidente dopo le tre sconfitte di fila dice stiamo valutando alcune soluzioni domenica contro Udine voglio i due punti in palio a tutti i costi nella mezza maratona bisogno si migliora ad Agropoli poi la serie B Giulianova d'applausi we are che sorpresa tensione all'amatori il ciclismo il Giro d'Italia in Abruzzo il 13 di maggio questo per la centunesima edizione del Giro nel 2018 incontro a Milano tra i vertici di RCS e i rappresentanti della regione nel taglio basso Rotilio l'Aquila Rugby a ragazzi incredibili la serie A il coach è stata una vittoria amara perché danno il cuore ma non hanno da mangiare e dormire era questa l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa mattino 6 termina qui torna ovviamente domani alle ore 8 la nostra informazione invece oggi alle 14 alle 19 e alle 23 con il TG6 è davvero tutto io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata grazie a tutti